Come si produce fiori di zucchine? Per riuscire a raccoglierli al meglio e portarli nel capannone a confezionarli prima possibile, onde evitare che si rovini. Lo spettacolo delle api alla mattina è qualcosa di unico, perché le api escono dai fiori che sono gialle come i fiori. Se l'ape non va dentro al fiore, lo zucchino non viene impollinato, rimane brutto. Invece facendo l'ape, facendo il suo circolo naturale, lo zucchino viene bello. E' necessario che rimanga lì, che venga impollinato il fiore. Io quando vado in un supermercato e vedo il mio prodotto, la prima cosa che guardo è la freschezza. Se il prodotto è sano e se lo vedo bello mi riempie di gioia. Mi sono orgoglioso del mio prodotto, del nostro prodotto. Sì, a fare questo lavoro c'è tanto orgoglio, perché c'è tutta la famiglia, ci sono i figli, i nipoti, che alla sera quando arrivano sono le cose più belle che ci possa essere. Agri Bologna. La qualità in persona.